Nel primo pomeriggio della domenica scoppia improvvisamente a Priscile un furioso incendio causato dai residui dei mortaretti sparati durante la processione in onore del Santissimo Nome di Maria. Le fiamme poco a poco si fanno sempre più minacciose. Vani risultano i tentativi di spegnere l'incendio da parte della protezione civile, a tal punto che si rende necessario ricorrere all'elicottero. Sollecitamente chiamati, gli elicotteristi della protezione civile accorrono prontamente. Questi ultimi attingono l'acqua nell'arefota per poi riversarla sopra le fiamme. Osserviamo. Allora, la buttata. Dov'è? La fa giro, forse. Ecco, la fa giro, la butta là. Cosa? E' la fa giro, la fa giro, la fa giro. Grazie a tutti. Talmente alta è l'intensità dell'incendio che i solerti uomini della protezione civile sono costretti ad effettuare vari passaggi. Vediamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.